E' quasi chiuso il cerchio sul giallo internazionale relativo all'omicidio in Brasile della 39enne di Ragusa Pamela Canzonieri. La polizia brasiliana ha identificato coloro che hanno preso parte attiva o che hanno comunque rivestito un ruolo ben preciso nello strangolamento della donna commesso nella sua abitazione al quartiere Mangaba a Morro de Sao Paulo. Gli inquirenti hanno il quadro d'insieme abbastanza chiaro ma non rivelano tutti gli elementi per non rischiare di compromettere le fasi finali di una indagine eseguita da vicino anche dalla Sicilia e segnatamente da Ragusa dove la famiglia di Pamela attende con il fiato in gola gli sviluppi di questa drammatica vicenda che ha visto la morte violenta di una donna solare dalla vita specchiata. Come accennato, stando agli esiti dell'autopsia, Pamela sarebbe morta per asfissia da strangolamento dopo che l'assassino le ha serrato le mani al collo non concedendo l'escampo. Sul corpo, trovato dopo una telefonata anonima, erano ben visibili sul collo i segni dello strangolamento ed altri lividi sulle braccia. Pare che la donna abbia aperto la porta di casa di sua iniziativa perché si fidava. Gli investigatori non hanno di fatti trovato segni di effrazione. Chi e perché ha ucciso Pamela? Tutti i nodi potrebbero essere sciolti nelle prossime ore in base agli esiti degli interrogatori delle persone, almeno tre o quattro, identificate e fermate in queste ore. Intanto il ministro degli affari esteri, Paolo Gentiloni, ha respinto le accuse dei familiari di Pamela, secondo cui lo Stato li avrebbe lasciati soli. E stasera ragusa la fiaccolata da Piazza Lupis con presidio sotto la casa della famiglia Canzonieri in attesa che il corpo di Pamela rientri in Italia sabato.